Istituzioni e sindacati decisi a difendere 64 posti di lavoro a rischio alla SNAI di Porcari. Questa la volontà emersa nel corso della trasmissione Dido di ieri sera. In studio e in collegamento dal municipio i rappresentanti del comune di Porcari e dei lavoratori che hanno parlato dell'inaspettato atteggiamento di chiusura di una società alla quale Porcari ha dato sempre la possibilità di espandersi e che comunque basa la propria attività su una concessione pubblica e che quindi non può permettersi di essere indifferente alle esigenze del territorio. Mentre si attende una presa di posizione dal governo dopo le interpellanze dei parlamentari Mariani e Marcucci i sindacati nel prossimo incontro fissato con l'azienda per lunedì prossimo chiederanno l'adozione dei contratti di solidarietà. Nel corso della trasmissione l'ex patron della SNAI Maurizio Ugi pur non potendo garantire alcuna certezza ha detto che qualora ci fossero esuberi si impegnerà a trovare loro una nuova occupazione presso altri concessionari di scommesse quindi concorrenti della SNAI. L'attuale stato d'animo dei dipendenti è stato ben espresso da un giovane lavoratore. Porto l'esempio del mio reparto dove c'è stato un forte dimanzionamento dovuto proprio allo spostamento della sede legale quindi abbiamo delle persone che appunto essendo dimanzionate non hanno più del lavoro da svolgere altre invece che sono oberate di lavoro e ci troviamo male tutti perché chi non ha niente da fare si sente inutile mentre invece quelli che tutto il lavoro grava su di loro lo fanno, vanno avanti a fatica ma torna anche male con gli altri colleghi far vedere che si ha tutta questa mole di lavoro e gli altri che invece non ce l'hanno. Si creano proprio delle situazioni di disagio tra di noi e questo penso che sia la cosa più grave perché sarebbe importante invece rispettare anche, c'è la crisi, tutti i problemi, però la dignità umana la dignità umana va rispettata sempre ed è la prerogativa principale da apporsi in queste situazioni, in tutte le situazioni. Io penso che sia la cosa più grave.